buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video in questo nuovo video presentiamo una novità importantissima di debetune anteprima di voce wonders 2024 si tratta del debetune più complicato mai prodotto due quadranti otto funzioni new kind of grand complication complication ecco perché se parlo in inglese deve essere inglese non mi sto francese probabilmente non era nessuna delle due lingue ma andiamo avanti scherzo andiamo avanti con questo notevolissimo l'orologio che ha molte soluzioni interessanti e che condensa 22 anni di storia di alta orologeria di debetune di denis flageolet ecco qui entrambi i quadranti di questo orologio allora 43 mm di titanio lucidato specchio virgola 3 per 13 virgola 8 quindi quasi 14 e le otto funzioni nei due quadranti ora stiamo a vedere nel quadrante più classico che offre un calendario perpetuo ora concentriamoci su quello contemporaneo quello contemporaneo prevede allora ore minuti secondi saltanti con sfere in titanio lucidate a mano e atturrate anche la forma delta shape del man plate è in titanio lucidato specchio il turbione è un turbione a 30 secondi quindi molto veloce ci sono due bariletti e in quel quadrante si può anche vedere e lo state vedendo adesso la riserva di carica e l'indicatore dell'età della luna qui possiamo vedere l'orologio ruotato a metà che tolto da polso può essere un orologio da tavolo e qui abbiamo un quadrante che sembra quello del star ivarius molto più leggibile con una base in titanio azzurrato al fuoco con inserti di oro pagliuzzi in oro di 24 carati per fare le stelle poi abbiamo l'indicazione delle fasi di luna cilindriche e poi abbiamo le indicazioni del calendario perpetuo veramente è tutto molto bello e anche piuttosto funzionale perché è uno dei debetti più indossabili con i suoi 43,3 e 13,8 mm di spessore e la facilità di ruotare la cassa da una parte all'altra anche se il sistema di sante castigliani da questo punto vista mi sembra più geniale e più semplice poi qui abbiamo naturalmente le anse che sono flottanti infatti una corona sta al 12 o al 6 a seconda del quadrante che si utilizza l'orologio costa 450 mila dollari usa quindi non sappiamo quanto costerebbe in italia lo potete ordinare subito ma l'anno se ne possono fare solo 5 quindi non è una serie limitata dalla casa ma limitata dalle capacità produttive è un bellissimo orologio secondo me si può discutere se sia una grande complicazione perché lo ricordo in senso classico una grande complicazione deve avere una complicazione suoneria nobile quindi tipicamente almeno una ripetizione minuti poi dovrebbe avere un cronografo rattrappante e un'indicazione astronomica di solito il calendario perpetuo qui mancano un po di cose ce ne sono altre insomma comunque così è la visione dei 22 anni di debetti un concentrato in un unico pezzo che secondo me è piuttosto riuscito e piuttosto bello con un prezzo ovviamente stratosferico ma ciò non ci sorprende e ora passiamo un'altra novità sfiziosa no ora non vi presento un nuovo orologio ma vi presento vi parlo di un'innovazione che omega ha annunciato nei giorni scorsi e che era sfuggita almeno me cioè la creazione di un laboratoire de precision che sarà aperto tutte le case e che non certificherà ora oggi omega cioè sarà aperto solo alle altre case perché gli omega sono certificati a un livello superiore il metas che in teoria anche il metas doveva essere aperto tutte le case però in questo caso la cosa ha funzionato meno perché il metas certifica anche omega e quindi solo tudor credo abbia fatto una certificazione metas su un suo modello secondo gli standard metas di omega mentre invece le altre case non hanno partecipato questo lavoratorio invece si rivolge esclusivamente all'esterno quindi dietro c'è omega e la sua tecnologia ma di fatto si rivolge ai concorrenti dicendo volete far certificare il vostro orologio più che al cost qui perché la differenza sarebbe che mentre il cost rileva le prestazioni una volta ogni 24 ore qui ci sarebbe una misurazione completa totale anche per qui per tutti i 15 giorni di prova naturalmente presupponendo che ogni esemplare venga davvero testato cosa che ripeto non era per non mi risulta sia per il cosco anche se loro dichiarano che accade ma in realtà sembra non accadere e quindi prima di tutto bisogna vedere se ognuno sarà testato omega dice di sì e sarà comunque una precisione di sarà una rilevazione di dati dieci volte più accurata della precisione del cosco dimostrando ancora una volta che la precisione del cosco è ormai ampiamente superata ma questo sappiamo e lo sanno tutti quindi omega avrebbe introdotto avrebbe creato nuovi strumenti per fare queste mesurazioni nelle varie posizioni per 15 giorni nelle varie condizioni di temperatura e poi non ci dimentichiamo l'aver creato lo spirito cioè un sistema di regolazione nuovo che diciamo così si aggiunge al sistema racchetta al sistema spirale libera con bilanciera inerza variabile abbiamo lo spirito che consente una regolazione secondo omega fra 0 e più due secondi di un orologio quindi sarà molto interessante per probabilmente questo laboratoire de precisione servirà anche per avere accogliere dati per lo spirit così almeno si scrive un di chi non so su quale base esattamente l'informazione ma insomma questa era comunque una notizia interessante curiosa che andava data perché nessuno aveva ancora osato veramente sfidare il cosco ora omega lo fa e vedremo con quale risultato bene intanto vi ringrazio vi saluto e iscrivetevi al canale mettete like e al prossimo video ciao